Amici carissimi, perdonatemi l'insolita posizione, ma è l'unico modo che ho, che sennò non vedete niente di quello che farò in questo video. Ho le cuffie, non sono nemmeno perché le tengo, ve le sono dimenticate addosso. Il video di oggi è frutto di un'idea che non è stata partorita assolutamente da me. Questa è una cosa che voglio che voi sappiate. Ringraziate il mio più stretto collaboratore, Andrea. Allora qui abbiamo il nostro bellissimo 12900K e qui abbiamo la 4090 TUF. E che cosa andremo a fare oggi? Ve lo spiegherò in breve. Andremo a fare un esperimento poco intelligente, sotto tutti gli aspetti, perché andremo a mettere questi due componenti, che sono ovviamente hang-end, il processore forse no, però voglio dire un processore che comunque consuma un botto, su una bellissima H610, il modello Pro B di DR4, le cui caratteristiche sono anche, voglio dire, abbastanza, non lo so come chiamarle. Vedremo un attimo che cosa succede nel momento in cui inizieremo a lanciare una serie di bench, sia sul processore che ovviamente sulla scheda video. Questa cosa che sto facendo, ovviamente io vi invito a non ripeterla, è una cosa che mi serve per spiegarvi in realtà una serie di concetti che a volte parecchie persone si dimenticano quando vanno a fare le build. Oh Gesù, mio Dio, Cristo Santo, ma che è sta roba qua? Signore e signori, benvenuti su MP Hardware, edizione a crocchio time, per non dire altro, se no qualcuno magari si può offendere. Vi presento a voi una bellissima H610 MB DDR4 Pro, che come potete vedere è una scheda madre dal costo di circa sotto le 100€, se non mi sbaglio. Ed ha un bellissimo PCI Express X16 Gen 4, con il nostro bellissimo SSD. Non ha minimamente, nemmeno così per sbaglio, un dissipatore sui VRM, c'è solo quello del chipset. Qui dovrei contare, se non mi sbaglio, circa 4 fasi di alimentazione, ma può darsi che sto dicendo una cazzata. E due bellissimi slot per le nostre DDR4, che molti di voi amano particolarmente. Poi una dotazione di porte SATA, che ovviamente ci cambia la vita. E poi possiamo osservare il bellissimo comparto posteriore di porte di tutti i tipi, ovvero sei bellissime porte USB, e abbiamo una porta PS2 nel 2023. Bello! Bella scheda madre che adesso facciamo prendere fuoco, perché prenderà sicuramente fuoco. Spero che non brucio processore o scheda video, perché se no mi vedrete bestemmiare in un modo che non l'ho mai fatto in un video, ragazzi. Andiamo a montare le componenti su questo accrocchio qua. Adesso non solo io ho deciso di fare questo video inutile, ma mi tocca anche smontare mezza bench. Questa è una bench che costa 120 euro, vedete? Questa è una bench che costa 120 euro e le viti. Bello! Con le mani ci sono riuscito. Con la super forza. Bello, eh? Bellissima, guardate qua, guardate. Ma è proprio un qualcosa di spettacolare. Ok, sicuro 100-100 che non tocca bene. Sicuro proprio, ma garantito proprio. Questo ovviamente non ha l'RGB. Fa niente, pacienza. CPU fan c'è, eh? Ottimo, devo mettere la scheda video e che ci manca le RAM. Allora ragazzi, un attimo di panico perché non mi sono reso conto di non avere RAM. E poi ho trovato queste fantastiche RAM dell'Inps. Benissimo, che sono delle Samsung 32 giga. Non so se mette a fuoco, no? E sono esattamente a 3.000, dovrebbero essere delle 3.200 MHz. Saranno una merda, però almeno ce le facciamo, basta. Oh, una cosa ho notato, no? E vi faccio vedere. Su alcuni modelli di RTX 4000, aspettate. Su alcuni modelli di RTX 4000 il connettore è montato di così, in altri modelli è al contrario. Cioè, io non capisco perché. Cioè, guardate qua. Guardate la differenza fra i due connettori. Questo è montato con i pin piccoli sopra e questo è montato con i pin piccoli sotto. Dico io, che cazzo? Ma almeno metteteli tutti quanti uguali. Metteteli diritti. Non è che io ogni volta devo pigliare il suo connettore, lo devo girare, lo devo fare. Andiamo, accendiamo e vediamo che succede. Allora, il debug è partito? Partito. E ovviamente si spegne tutto coso. Vediamo un attimo. Mettiamo un po' di luce. Debug. CPU è andato. La RAM pure, eh? Oh, ragazzi. Sì, è partito. È partito. Grande. Allora, raga, già che si è acceso così alla prima botta, ma è una cosa spettacolare. Non me l'aspettavo. H610M1 Marco Verdoliva 0, perché io non mi aspettavo che partisse così a bomba al razzo subito. Preparazione di dispositivi. Va bene, evito di formattare tanto quello che dobbiamo fare. Oh, è partita. Quindi è partita, raga. Allora, torniamo in postazione e vi registro il monitor. Effettivamente le RAM sono impostate a 3200 MHz, quindi sono andate. Solo che i timing sono CL22, quindi non proprio il massimo. La cosa che però notate è che la CPU viene tranquillamente letta, senza grossi problemi, ma i due PL, cioè il long PL e lo short PL, sono limitati. Il primo a 100 Watt e il secondo a 110 Watt. E questa cosa per adesso io la lascio così. Quindi capite che stiamo parlando di 12900K, che in questo momento è limitato a 115 Watt. E adesso andremo anche a vedere se è così, e poi proveremo ad aumentare il PL per forza. Io ora faccio partire un test in multicore e vediamo che succede. Vediamo la CPU innanzitutto a quando arriva, a 115 Watt. E come potete vedere si ferma, assolutamente. però sta viaggiando a 3 e 8 su tutti gli e-core. Tra l'altro la temperatura del processore non è nemmeno alta. Siamo sui 50 gradi, forse qualcosina in più, però il PL ovviamente è 115, quindi è completamente limitata in questo caso. E ci andiamo a vedere pure il punteggio finale, che è di 22.234, che voglio dire non è proprio malvagissimo per essere un 12900K su un H610, però ovviamente è molto più basso rispetto a quelli che sono i normali valori in Ginebench. Allora raga, senza proprio esagerare, io inizierei da un 140, è da 155, non di più. Allora raga, MOSFET 32 gradi, mo' è partito il test. 155 Watt, vediamo quando arriva la MOBO sulle fasi e quindi sui MOSFET dei VRM, e di conseguenza capiamo se possiamo spingerci oltre. Comunque non ci possiamo spingere oltre, già ve lo dico. Già siamo in una situazione dove stiamo in qualche modo dissipando attivamente le vendole. Ho messo due vendole e praticamente le ho sparate a palla e questo è tutto quello che possiamo fare. Niente raga, la MOBO droppa a droppa di 10 Watt. Sembrerebbe proprio che al di là della temperatura dei MOSFET la MOBO non regge. E quindi penso che impostando un power limit di 140 Watt dovrebbe... E mo' che cazzo è successo? Niente. Si è bloccato tutte cose. Stoppiamo un attimo tutto. E' bloccato tutte cose. Cazzo è successo qua? Lo facciamo a partire per un test in cyberpunk. Giusto per? Andando a togliere un po' di cose tipo il ray tracing mettendo invece semplicemente ad ultra senza andare a caricare troppo c'è effettivamente il processore che arriva a massimo di 100 Watt e sembrerebbe quasi che il gioco non ha grossi grossissimi problemi. Non è proprio un granché. Comunque questo esperimento penso che può dichiararsi concluso. Quindi che cosa abbiamo imparato oggi da questo da questo esperimento? Più che altro io lo definirei da questa idiozia cioè di mettere componenti del genere su una piattaforma non adeguata che tante volte quando si comprano i componenti e quando si fanno le build spesso e volentieri qualcuno dice ah vabbè ma tanto funziona basta che funziona che fa mettiamo pigliamo sta alimentatore qua che ce ne frega invece di pigliare sta scheda madre che c'ha i due dissipatorini sui VRM e cazzo te ne frega prendi la B660M di 4 soldi senza dissipatori e senza niente oppure le RAM oppure tante volte si tende a pensare che noi in qualche modo estremizziamo sempre un po' le cose diciamo no ma non c'è bisogno puoi prendere pure qualcosa che costa poco è normale che qualcosa che costa poco nel nostro caso della H610M prevede massimo un processore che non vada a consumare più di 80-90 watt ma proprio volendo esagerare anche un processore da 100 watt ma avete visto che i VRM dopo un po' prendono fuoco e anche la scheda video che è comunque una scheda video che è montata su un PCI Gen 4 in qualche modo viene limitato da tutto il sistema perché questo può essere considerato un classico esempio di bottleneck ma non della CPU di per sé ma proprio della piattaforma quindi non facciamo cazzate compriamo sempre le componenti giuste o almeno il minimo indispensabile ovviamente devi mettere like e ti devi iscrivere al canale assolutamente perché c'è ovviamente questo esperimento che mi metterai in ridicolo voglio che serva a qualche cosa quindi metti un like iscriviti al canale vai giù in descrizione c'è il mio account Instagram venite tutti quanti e poi ovviamente canale Telegram delle offerte dove sicuramente non postiamo schede matri del genere ma almeno qualcosa di più decente ok grazie